La seduta di assestamento al bilancio, preparata su misura per correre in soccorso al Comune di Potenza, si è trasformata in un voracissimo assalto alle già povere casse della nostra Regione. E' quanto affermano i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, Giovanni Perrino e Gianni Leggeri, commentando l'approvazione della manovra finanziaria. A loro parere, i 32 milioni di euro a fondo perduto stanziati per il capoluogo hanno scatenato un pericoloso effetto domino che ha visto lo spostamento di ingenti somme di denaro per accontentare i vari signorotti sparsi per i feudi lucani. Perrino e Leggeri ricordano a questo proposito i fondi stanziati per la provincia di Potenza, per la gestione commissariale della ex comunità montana del Marmoplatano, per i piccoli comuni in difficoltà e per quelli danneggiati a causa del limo agricola. Nessuno spazio, invece, per il fondo rotativo per gli enti locali e per il piano paesaggistico regionale che il Movimento 5 Stelle aveva sostenuto. Facendo due conti molto veloci, concludono Perrino e Leggeri, emerge un totale di circa 65 milioni di euro sborsati in un sol colpo. Soldi più che sufficienti per istituire un reddito di cittadinanza degno di questo nome, più dignitoso e utile dell'elemosina prevista dal reddito di inserimento pittelliano e di tutte le altre misure messe in campo durante gli anni.